C'è tutto un bollet 1996, blan de blan. 930 euro, 930 euro. Niente, non c'è più nessuna reazione. Telefona, tra vent'anni. Da quant'è che cucini? Tutto il povericcio. E il genio? E tu e te. Io adesso non so. Abbiamo perdonato tutto, ma perdonato cosa? Il Rolex. Il SUV. Gli slip. Simona. Non so rispondere. Fuma. Sì, è l'unica che conosco che ha cominciato in gravidanza. Il bimbo resta piccolo. Era infantino. Avete già deciso come chiamarlo? Sì. Bernardo. Ma bellissimo come Bertolucci. Ma il maschile di Bernardo. Luca, Matteo, Paolo, come te. No. Bruto? No. Se spingi quel coso, dai, più la marrenic. Non mi viene, ma arrendola. Dai, dicelo. Non sta scherzando? No. Ma certo che sta scherzando. Ma non scherzo affatto. Ci piace molto. È originale ma classico. Non mi piace? No, non mi piace. Simona, tu sei l'incarnazione della disfatta del nostro paese. Siamo a prendere lezioni da uno che ha chiamato i figli. Pinn e scintilla. Parla! O parlo io? Guarda quel amore, hai dieci tweet. Allora twittami sto cazzo. Io mio figlio lo chiamo come mi pare, capito? No, non puoi. Ciao mamma, come va? Benissimo. Bella serata. No, siamo nel tuo emino. Tu pensi che io sia omosessuale? Non l'ho mai visto con una donna, a parte beta. Con beta tutto, anche le cerette. Adesso lo dice. Digglielo. Non sono pronti. Pronti a cosa?